ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come decorare questo quaderno che ho comprato da ikea con l'intenzione di inserirlo poi nella mia midori magari in questa di cui ho fatto l'ultimo video l'abbigliamo un po così così rimane più carina per non per non lasciare un semplice quaderno all'interno della midori quello che io farò servirà per darvi spunto poi voi potrete modificarlo come come volete però era solo per darvi per darvi un'idea di quello che si può fare un'idea di quello che si può fare Grazie a tutti. 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 vedete. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e qui. a tutti. 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 a tutti.